Interventi di manutenzione straordinaria sono previsti nei prossimi giorni al Parco Cimolai e al Parco dei Laghetti di Rorai. L'amministrazione comunale continua quindi ad impegnarsi nel valorizzare l'ingente patrimonio di aree verdi che caratterizza in positivo la città. L'assessore comunale all'ambiente è Nicola Conficoni. Siamo al Parco dei Laghetti di Rorai dove nei giorni scorsi è stata piantumata una siepe utile a mascherare la rete che verrà successivamente collocata per separare l'area dedicata alla sgambatura dei cani dalla pista ciclabile in modo da evitare pericolose promiscuità. In questi giorni sono in corso i lavori di sostituzione di alcuni tratti di recinzione ammalorati. Per valorizzare questo importante polmone verde cittadino entro la fine dell'anno abbiamo in programma anche di installare alcuni attrezzi ginnici per favorire l'attività fisica dei frequentatori del parco nonché l'attivazione di un fontanello per l'acqua potabile. Lunedì prossimo invece sarà chiuso al pubblico il Parco Cimolai dove abbiamo in previsione il rifacimento dei camminamenti che si presentano rovinati ormai da parecchio tempo. Un intervento che non possiamo più rimandare che segue un altro intervento di manutenzione straordinaria effettuato l'anno scorso nel parco dove abbiamo realizzato alcune vasche di laminazione per evitare l'allagamento di alcune abitazioni circostanti. Abbiamo anche in programma nelle prossime settimane la sostituzione di alcuni giochi nell'area verde di Largo Cervignano in via Beata Domicilla e anche in altre aree verdi. L'amministrazione comunale in questo modo intende rendere i parchi cittadini più accessibili, più sicuri e anche più godibili.